Giovanni De Benedictis, che cosa significa avere un'altra struttura per l'atletica leggera nella provincia di Pescara, nell'Abruzzo più in generale? Io da più di un anno lavoro sul territorio, passare qui ogni volta e vedere i cancelli chiusi francamente mi si stringeva il cuore. Oggi è un giorno particolarmente felice, utilizzeremo una struttura importante localizzata in un posto fondamentale e mi auguro che questo sia un grande inizio. Quando facevi atletica tu, bene anche tanti anni fa, qual era la situazione e adesso qual è? Forse addirittura è peggiorata, è migliorata oggi con l'inaugurazione della pista allo stadio di Montesilvano ma per tanti anni c'è stato un periodo di oblio direi. Oggi Giovanni De Benedictis per entrare allo stadio triatico di Pescara ci manca poco che deve chiedere il permesso purtroppo è così, la burocrazia ci divora ed è un male perché comunque non dovrebbe essere così sicuramente. Ti è tornata anche la voglia di fare atletica, adesso ti vediamo anche in versione allenatore perché stai preparando due atleti molto importanti. Sì, due olimpionici, due persone che hanno già dato tanto alla nostra nazione e mi auguro continuino a dare, sicuramente una persona, Marco De Luca è a fine carriera Giorgio Rubino invece vuole fare ancora un ciclo olimpico importante io sono da quest'anno il loro allenatore e spero di poter contribuire positivamente alla loro carriera. Sei stato invitato qui dai bersaglieri, da Mimmo Martellotta, cioè amici che hai ritrovato proprio qui nell'elungurazione della pista dello stadio di Montesilvano, testimonianza che poi alla fine si è tutti una famiglia. Sì, amici di vecchia data che tra l'altro hanno condiviso con me la stessa specialità quindi gli voglio un gran bene.